Anticipazione imposta al sole, mercoledì 17 luglio 2019 Marina fa una scoperta terribile su Arturo, che si fa chiamare Lucio. Ha un tumore e non vuole farsi operare né sottoporre alle dovute e necessarie terapie. Patrizio riceve una proposta da Filippo e Serena e ovvero lavorare come chef a bordo dello yacht della loro società di cartering. Il ragazzo accetterà questa nuova offerta lavorativa oppure meno? La Giordano intanto prende molto a cuore la situazione del senza tetto e si dice disposta a tutto pur di aiutarlo. Riuscirà a convincerlo? Riuscirà a scoprire cose interessanti sul suo passato? Vittorio e Alex partono alla volta di Berlino. Grazie.